L'ipotesi di una vittoria di Trump e le reazioni ai trumpisti, e vorrei farle sentire, Giuseppe Conte che cosa ha detto ieri a otto e mezzo su questo? Io credo che Trump... Per non parlare del Medio Oriente... Per quanto riguarda le politiche di Trump le ho già sperimentate, io non le condivido tutte, assolutamente, abbiamo avuto varie differenze, però io credo e spero che chiunque sia, e se fosse lui immagino che si sperimenterebbe per un negoziato di pace, perché non abbiamo una via d'uscita con la Russia, se non l'escalation militare e la guerra nucleare. No, questo speriamo proprio di no, quindi non è vero che chi pensa e chi scrive come Stefano Folli, che il secondo Trump ritroverebbe Giuseppe, che è il famoso tweet di Trump, uno con soddisfazione, Salvini a destra e Conte a sinistra, la mappa delle relazioni con l'Italia è già scritta. Scusi, le dico molto sinceramente, se le ricorda, a memoria storica e non ne ho dubbi, io sono quello che ha sottoscritto l'accordo con la Cina, la via della seta, quando uscì la Trump, ho scontentato gli americani. Infatti le hanno rifacciato per anni e la Meloni ha fatto marcia indietro. Scusi, ho detto che il disimpegno in Libia non andava bene degli americani, ci ha creato dei grossi problemi. Non è che ho condiviso tutto quello che è stato perché c'è la Trump. Poi dice, però, mancava questo pezzettino della cosa, lui dice però sulla politica estera può essere che faccia meglio di Biden e quindi andare in direzione di un negoziato. E appunto però Conte stesso ha ricordato che lui ha firmato il memorandum of understanding con la Cina che è stato da tutti giudicato un disastro, per cui la confusione mentale di Conte in politica estera non è che può essere trasformata in una cartina al tornasole per vedere come Trump potrebbe andare bene. E noi sappiamo, da quello che ci dicono gli analisti americani, e da quello che capiamo anche noi, perché non è che sia necessario avere la sfera di cristallo, che un secondo mandato di Trump, lo dice lui stesso, sarebbe più estremista di quello precedente. Ora, se c'è una cosa che Trump ha fatto in maniera confusa è stata la sua politica estera, qualcuno lo si ricorderà, quando andò in Corea del Nord lo show con il dittatore Kim, l'attraversamento della linea armistiziale o con quella specie di balletto. Quindi, francamente, sul fatto che avremmo una politica diversa nei confronti di Putin, non c'è dubbio, perché Putin, si sa, ha collaborato, ha cercato di inquinare, e probabilmente è riuscito a inquinare, il voto americano nella sfida che Trump vinse per il suo primo mandato, ha cercato di inquinare altri voti. Ma c'è un elemento di stabilità poi negli apparati, come sottolineava prima anche Dario Fabri, cioè un elemento che comunque è stabilizzatore chiunque vinca. non sappiamo in quale direzione. Esatto, se pensiamo a quella bella espressione di Cassese che ho visto prima da vostro ospite, del libro che ha fatto con lei, tra l'altro, la struttura e le strutture del potere, in quel senso delle strutture esistono in tutti i paesi, però dimentichiamo sempre che la democrazia americana è quella che è più, diciamo così, permeabile ai meccanismi elettorali, cioè molto più di qualunque altra. Si eleggono dagli sceriffi e ai giudici, abbiamo visto come i giudici eletti nella Corte Suprema sono giudici che hanno una connotazione politica molto forte spesso. Quindi le strutture del potere, ovvio che possono frenare certi fugi in avanti, ma il problema è che in una condizione di emergenza come questa, in cui siamo da due anni in una guerra d'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, in cui c'è una minaccia nei confronti della Moldavia, c'è una minaccia nei confronti dei paesi baltici, che sono paesi in meia della Nato, c'è un'oggettiva a maggiore attenzione che gli Stati Uniti dovranno riservare alla Cina, chiunque sia il presidente, e quindi c'è più necessità di un'Europa capace di sostenere la sua parte dello sforzo e di essere anche in grado di agire, comunque voglia, a prescindere dal fatto di avere sempre le spalle coperte dagli Stati Uniti. In tutto questo, Trump per la sua imprevedibilità rischia di essere un fattore di complicazione, non un fattore di semplificazione. Sì, d'accordo Luigi Conte? Sì, sì.